Partiti! Si esce dalla racchetta con 4 cavalli in linea, allo steccato è Spritz con all'esterno Pantarei con più a largo le cadre Scenic che punta dritto, seguono Disy Sparta, Lord Up e più staccate in coda torcida. Si va con un'appariglia al comando formata dal numero 5 Spritz e il numero 2 le cadre Scenic, in tasca i due c'è il numero 4 Pantarei con Carlo Fiocchi in sella, segue Disy Sparta, Lord Up, già richiesto all'ordine da Salvatore Basile per tenerlo sveglio e in coda torcida. Si affronta la retta di fronte con una brusca decelerazione in avanti di Spritz, quindi si fa sotto Pantarei che è dalla terza posizione, Carlo Fiocchi muove e va a fianco del battistrada, seguono le cadre Scenic, Lord Up entra in coda, c'è un'appariglia formata da Torsida allo steccato con al suo esterno il numero 6 Disy Sparta. Passa Pantarei sul Lord Up, seguono Spritz e le cadre Scenic, mentre in coda è già richiesta Disy Sparta. Si va sulla curva finale con Carlo Fiocchi e Pantarei che hanno rotto gli Dugi e cercano l'allungo in lunga progressione, a seguire le mosse è Lord Up con Salvatore Basile, più indietro semide difficoltà Spritz attaccato all'esterno da le cadre Scenic, quindi Disy Sparta e in coda torcida. Si entra in retta con Pantarei che allo steccato cerca di ribattere sulle serrate di Lord Up, mentre a largo cerca di farsi sotto Torsida. E' sempre Pantarei che prova l'allungo allo steccato su Lord Up, terzo si fa sotto Torsida, lui in difficoltà gli altri. Siamo nell'ultimo tratto con Pantarei allo steccato attaccato da Lord Up, cerca di essere un fattore anche Torsida all'esterno. Siamo nell'ultimo tratto con Pantarei che sembra leggermente in difficoltà ed è attaccato da Torsida che prova lo scatto a centropista. E' proprio Torsida a centropista che cerca l'ingambata su Pantarei allo steccato, i due sono vicinissimi e sul palo piombano in due allo steccato Pantarei con l'allargo Torsida, terzo finisce Lord Up. Andiamo a vedere Reprei stretto perché sono arrivati vicinissimi. Eccoci qua, Pantarei proteso allo steccato in difesa sul numero 7 di Torsida, andiamo a vedere nello stretto, si va dal giudice, foto di indicifrabile, terzo il numero 3 Lord Up.